ciao a tutti ragazzi e buon match a tutti gli altri siamo qui nella sky fatte di 2.0 siamo nel 2014 cosa stiamo facendo adesso sei orribile quando io dovevo finire i mattoni della tinker ragazzi perché guardate ragazzi come ci si ricorda io l'ultima volta ho finito di craftare il survivalist generator e ci ho messo dentro un po di carbone però si è riempito completamente allora se qualcuno finisce la tinker dovremmo riuscire anche a craftare l'automatic sieve mi devi dire dove lo dobbiamo piazzare la tinker hai fatto tutti i blocchi giusti abbiamo cinque mattoni abbiamo il faucet aspetta dove l'avevo messo ok 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 manca solo un po di piccata diciamo no manca il casting table manca la casting table non c'hai riuscito a farla no non l'avevo proprio fatta perché per questione di tempo sai scusate io vi vorrei fare notare a tutti quello che cazzo sta facendo nella sua registrazione io ho un casting ma frank è da prima che va avanti così cioè è rotto vabbè ma frank è sceno voglio dire frank è rotto lo sappiamo cioè non è che che frank sia stupido cioè non possiamo farci niente blink lo sai ok dove mettiamo madonna intanto frank si teletrasporta perché ha deciso di laggare in modo brutto oggi dove mettiamo la tinker in un punto in un punto safe direi ma se lo mettiamo sotto qui quindi in aria in teoria il nostro punto safe è fuori da questo mondo direi che mi verrebbe fare delle scalette magari ragazzi io ho una loot bag tenete pandè io ne ho una to una loot bag sputa to peppe no aspetta si vabbè frank fa il bimbo cretino purtroppo quindi non te la posso dare io mi apro la mia loot bag e vedo se ci da qualcosa della tinker oh magari vediamo ho preso quattro frecce world 21 ed chi è world 21 oggi è un nerdo tanto largo che cosa abbiamo della tinker tutto eh la madonna più o meno tutto dai e ci mancano i mattoni per fare la base ma sto cuocendo i brick finchia mi dicevano best of anfeu qua mi dicevano che sta scalinata è proprio proprio safe guarda 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 quel cretino che se per sbaglio attiva la van miner muore guardalo guardalo io lo sto inquadrando e mi dico se quel cretino attiva la van miner muore perché fa un fa un salto di 40 blocchi l'imbecille io ci spero sinceramente ma la cosa è graziosa anche voi non sapete ma se anche blink ha la van miner messa è ovvio ma io di blink mi fido e questo è la differenza no il problema è che mi sono mi sono temperato io con la van miner ormai quindi è difficile che sbagli blink ha testato la van miner sulla sua pelle ho temprato fai lo zoom guarda bad aspetta aspetta io sto cercando di fare una cacca di piattaformina un attimo ti ho preso la cosa ma più che altro mi servirebbe mi servirebbe il cosa credo cosa 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 il dildo si 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 panni si il dildo cosa serve il dildo nella tinker eh il dildo è per fare gli upgrade no aspetta peppe aspetta aspetta qui ci va la cosa qua ci va ma perché non riesco a piazzarlo ho visto peppe giù eh perché non l'hai buttato giunto blink blink eh la prossima zona safe scusami ma non dovremmo andare dall'altra parte nooo allora diciamo che la tinker è quasi fatta comunque ragazzi mancherebbero tanti brick in realtà però eh c'ho ancora 27 pezzi di growth da cuocere eh di più ce ne servono di più mi sa eh eh lo so il problema è che abbiamo dovuto dovendo fare anche tutto il resto non bastano più no infatti growth ne hai ancora ma allora aspetta un attimo growth 27 pezzi ne ho sto cuocendo e in più ne ho 11 già cotti ne hai 11 già cotti ok 12 quindi altri 3 mattoncini però mi sa che ce ne servono lo stesso di più parlo del master builder fan dei gamer a noi servono ancora adesso non lo dico eh 9 blocchi ce ne vengono ancora guarda va guarda che so crashato eh 2 no non sei crashato 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ce ne servono ancora ti posso fare il testo scherzo mentre tu sei la sopra io attivo la venda non so se funziona sulla pittura quindi ci mancano due pezzi di cioè otto pezzi di growth otto e riusciamo a farli eh si e abbiamo clay sand eccetera eccetera e abbiamo sand dust e bla 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 si abbiamo tutto nebbia abbiamo fatto tutto ieri mi festi allora per piacere no aspetta lo faccio vedere io che così almeno faccio vedere anche io eh almeno fai vedere è la tua visuale car come è eh si growth allora growth ragazzi per chi non lo sapesse si crafta con clay gravel e sand il problema è che di clay ne abbiamo di clay ne abbiamo fai la dust basta avere un po' di dust acqua e abbiamo la clay eh no ma dovremmo già averci allora mmm ma non lo so ma quanto stiamo registrando poi? oh eh quasi dieci minuti se non dieci davvero? io non ho fatto un gazzo io sto preparando il piano rotto eh ne abbiamo veramente poca di clay eh io sono crashato io ho fatto più degli altri eh 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 eeeh frank balla per dieci minuti ora c'è idea eh clay eh so crashato di nuovo raga managgia voi va bene ecco il tuo dubbio fai compagnia da bimbo minchia eh ci sono un paio di secchi allora ci serve la dust quindi ci serve la grave e la dust ce l'ho si mi servivano solo i secchi con l'acqua ce l'ha fare e i secchi con l'acqua ce l'ha fare non so chi ce l'aveva l'unico secchio che aveva allora io ce l'ho se ci serve la gravel le faccio io io ce l'ho no volendo potremmo craftare anche un altro secchio oramai i pezzi di ferro ce li abbiamo ne abbiamo qua li serve qua 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 vabbè ci sono nel barrel ce ne sono i barrel scoperti l'acqua e dove lo devo mettere? dove la devo mettere l'acqua? scusa? dentro i barrel ah ok va bene su chi lo tieni tieni il bimbo minchia dello stato no ripeto c'è la schermata nera facile pensavo ti venisse la schermata blu con scritto fatal error a quel punto preoccupati ok 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 dai ragazzi vi aiutate a non presto blocco per fine video riusciamo almeno a finire la tinker? per forza spero di si a chi è che serve la gravel? ci serve gravel sand e gravel gravel ne ho 43 pezzi e io ne ho 64 pezzi allora fate uno dei due allora cosa faccio io dai tutto è 64 o 32? che non ti cacchiamo qua guarda ce ne servono 8 quindi no 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 aspetta vabbè aspetta aspetta voglio avermi lo faccio cadere meglio questo il girello a prova di blink eh eh se cade blink così io non ho idea di che fare ma blink potrebbe stupirti e cadere lo stesso blink si pare già io non posso più registrare dimmi crashi dirlo e ma un pezzo di sand me ne hai dato si tieni magari ti prendi anche 36 pezzi eh ho capito se te li prendi tu ok e quindi ci mancano 8 pezzi di clay ok 2 per 8 16 ma pensavamo la clay si fa con la dust giusto? no ce l'abbiamo già ce l'abbiamo già perché ne ho presi due io? vabbè io la faccio vabbè 17 pezzi dovrebbe bastarci eh l'ho smettata tra i due cosi mmm se 5x4 20 io non posso fare niente sto fermo e faccio e e e eh hai ancora blocchi? eh blocchi? eh 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 in che senso blocchi? di growth? no ho ce li ho messi tutti a cuocere e oggi abbiamo un episodio frascione di frank mavin cioè non va bene 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 3 6 7 8 quindi 1 e si aspetta eh ma vieni a vedere che facciamo no eh devo dire te li vengo a lanciare qui è meglio è meglio ah ok 3 ancora vi vedo ancora 3? tante persone che si teletravvoltano guarda e allora ci avanzavano più si ce l'ho alzato che tieni per? beh beh ma poi l'alziamo quindi per adesso va benissimo 4 e 4 8 5 e 6 ci mancano 3 pezzi di growth ne ho uno io eh ce l'ho qua l'ho smezzata tra le due fornaci aaaaa mancano 2 blocchi no eh ci penso io sto facendo con la clay adesso ti vado a prendere tutti i pezzi ti porto i due se basta che metti i due brick ne abbiamo due brick? si e poi possiamo anche chiedere l'episodio ok perchè c'è questo dildone messo qua? perchè è passato di lì Frank eh è passato Frank si quindi lui e i dildi metallici io ragazzi mentre voi lavorate ai vostri sutterfugi io faccio il piano di sotto si a posto ragazzi ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta a fare la tinker finalmente adesso ci manca la lava infatti mi è arrivato anche il libro iiii quindi ragazzi che cosa vabbè abbiamo fatto effettivamente poco magari nel prossimo video incomincieremo a spingere facendo autonomous bla 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 spingere spingere creatura di ossidiana che così almeno il mob spawner regge Frank Merin bimbo mi ehm 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 scusate però abbiamo iniziato ballando io direi di finire ballando che bella cosa eh dai 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 venite tutti qua ballando io mi metto fermo fate tutti voi ah panda panda tieni prima che faccio danno tieni eh bravo bravo è bello che lo dici prima che faccio danno qualsiasi cosa significhi io non balla il mio bimbo minchia non balla ok eccomi qua oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah aspetta che non mi balla guarda che non sanno ballare guarda che non sanno ballare non mi balla il personaggio non vuole ballare 3 2 1 I'm an Albert out mamma mia io sto ballando va bene ragazzi al prossimo video della Skate Factory ciao 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 ciao